Confermato calore in difesa per Anagrafe in attacco nella Sangio, qualcuno deve star fuori. Stavolta tocca a Di Santo partire della panchina con Keiki, trequartista centrale, dietro Jukic e Lorenzo Bindi ad alternarsi sulle corsie con Chernezo. Scoscini vince in mediana al ballottaggio con Bordo e gioca dunque a fianco del capitano Mugelli. Cronaca rinnovata dopo appena 34 secondi, belle incornate in anticipo di Mammetti su tutti, palla al lato della Porta Azzurra. Passa un giro di lancette e Chernezo non sfrutta altraversione da destra, concludendo debolmente addosso al portiere locale Sarri. Il Marzocco non riesce a concretizzare neppure la mischia successiva, nata da una percussione stavolta sul fronte opposto offensivo. Poi le squadre si prendono le misure fino al tiro cross di Di Giovanni, bloccato a terra da Scarpelli. Trentacinquesimo, buona punizione a disposizione di Davoli, sinistro raso terra neutralizzato dall'estremo ospite. Ultima nota della frazione, la bella azione di Chernezo che sfrutta la scivolata di Di Giovanni, diagonale incrociato che ottiene però solo un corner, poi senza esito. La ripresa si apre con l'uscita di Scarpelli che non trattiene, Davoli è sui piedi, il colpo dell'1-0, il portiere riesce ad opporsi deviando oltre il fondo. Poco dopo spazio in ripartenza ancora a Chernezo che arriva fino al limite dell'area piccola, sul pallone basso in mezzo manca la deviazione di qualsiasi attaccante azzurro. Si arriva all'ora di gioco, mischia ancora in area del Marzocco, ma metti di destro in girata, trova solo l'esterno della rete. Meno di 15 alla fine e dentro anche Rizzitelli che non supera ancora Scarpelli con il diagonale da dentro l'area. Minuto 38, deviazione involontaria di Calori che rischia l'autorete con la parabola che si esaurisce però di poco oltre la trasversale. Dal corner invece è strepitoso Scarpelli a negare il vantaggio sull'incornata di Sereni sul primo palo. La rispinta di fatto chiude il match sullo 0-0, altro punticino per la Sangio.